anche i movimenti, un po' forse in parte possiamo andare a spiegare questo quinto posto con un punteggio tecnico veramente basso ma per i dettagli andiamo ad analizzare il pdf del punteggio tecnico con Anna Cappellini ma purtroppo ieri l'è stato degradato questo triplo flip, è uscito abbastanza male anche i giudici gli hanno dato davvero dei punteggi di bassa qualità insomma pertanto con la gara che c'è stata ieri e il numero di programmi puliti che abbiamo visto è stata molto penalizzata da questo speriamo che oggi possa fare meglio, possa riprendersi grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.